buongiorno buongiorno assaggiatori buongiorno buongiorno amici a casa eccoci pronti a quel che passa il convento per tante nuove bellissime ricette detto dico bene benissimo confermate voi confermate assaggiatori confermo e buongiorno a tutti confermiamo buongiorno a tutti e allora diteci come sarà questa puntata ma sarà una puntata che fa buon brodo io direi un po' rodonda io direi anche un po' marinara quanto mi piacciono questi rebus don domenico io avrei aggiunto caramellata caramellata e perché perché faremo le caramelle veramente le caramelle e che caramelle facciamo le caramelle dei nonni le caramelle dei nonni che bello quindi le dedichiamo a tutti i nonni che ci stanno seguendo sicuro bello bello allora signore e signori a casa quelli che sono nonni ma anche quelli che non lo sono perché le caramelle piacciono a tutti questa ricetta è per voi è una ricetta antica di don domenico del convento come si fa allora useremo due agrumi sì con le arance e il limone sì quindi diciamo in tutto un 100 millilitri su per giù sì sì allora io vi aiuto faccio un altro po di arancia io faccio il benissimo dobbiamo spremere arance e limoni don domenico quando sbaglio qualcosa non rivolgete gli occhi verso l'alto nel senso che avete questa pazienza che non è pazienza san beneretto dice di avere lo sguardo sempre verso l'alto perché il monaco deve sempre guardare in alto guardare a dio ecco quindi non è più grande che noi abbiamo allora io adesso sto mettendo l'acqua nella colla di pesce perché si deve ammorbidire faccio bene benissimo e faccio bene signori assaggiatori benissimo soltanto io sto seguendo proprio interessatissimo è il fatto che io ho tanti nipotini si soddisfare e questa è una caramella e le caramelle di nonno carlo è certo quelle devo fare soltanto questa dose per un quarto dei miei nipoti hai voglia caramelle allora il succo degli agrumi va messo in un pentolino in un pentolino benissimo allora si deve scaldare ecco qui e aggiungo lo zucchero sì mi piace proprio questa ricetta don domenico avete avuto un'idea bellissima ecco quindi lo facciamo sciogliere sì facciamo sciogliere e si deve proprio riscaldare abbiamo detto ecco a voi quali caramelle vi piacciono assaggiatori a me limone e zenzero a me caramelle a me piacciono quelle vecchie tipo le mau quelle morbide ah quelle morbide al latte don domenico voi monaci le producete anche le caramelle cioè noi non li produciamo però ecco c'è una ditta che li fa su una nostra ricetta ah quindi una ricetta proprio antica che è questa sì anche questa sì che c'è anche questa gelatinosa usiamo diversi tipi di caramelle perché dipende anche dai gusti ecco delle persone no e alla maria ha detto che a lei piacciono molto le caramelle con il limone allo zenzero vanno vanno di moda in questo momento le mie preferite sono le lacrime d'amore quelle piccole di zucchero colorate che contengono un po di liquore dolce sono buonissime sono caramelle antiche anche queste domenico allora una volta che lo zucchero si è sciolto nel succo di agrumi aggiungiamo dobbiamo strizzare ecco la colla di pesce ben strizzata ben strizzata si aggiunge si fa addensare guardate quanto è facile fare le caramelle non ci pensiamo mai perché poi le caramelle andiamo sempre a comprarle invece i monaci e le monache sono proprio abituati a fare tutto in casa tutto 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 da loro no noi abbiamo sempre cercato di essere autosufficienti e del resto san benedetto nella regola dice che il monaco deve cercare di produrre no un po di tutto in modo che esca il meno possibile dal infatti si deve organizzare bene ecco a questo punto togliamo dal tegamino e lo andiamo a versare in una pirofila con la carta forno mettete voi attento con la carta forno perché poi così sarà più semplice togliere poi don domenico si lascia raffreddare leggermente e si mette in frigorifero per quanto tempo per alcune ore ecco perché si deve addensare bene almeno due ore ecco allora lasciamolo raffreddare da parte ed ecco qui la gelatina pronta guardate che bella che è venuta quindi la gelatina pronta guardate che bella morbida morbida mi verrebbe voglia di mangiarla di mangiarla così direttamente ma lo facciamo subito perché questo dobbiamo tagliarle a quadratini come si fa sì poi dipende dalla grandezza che noi vogliamo sì sì queste le mettiamo nello zucchero no che bella ricetta ci potrei stare ore a farla signori assaggiatori siete fortunatissimi oggi c'è una ricetta caramellosa dolcissima guardate che belle le caramelle sapete che facciamo dopo le diamo a voi ve le tagliate ve le inzuccherate e ce ne lasciate qualcuna ma andiamo a vedere chi saranno gli ospiti di oggi bene arrivate a roberta e a nora che arrivano dalla provincia di latina dall'enola e da fondi roberta mirabella e nora pinto e gradite una caramella guarda guarda che carine che sono vero e mangiamo sì ne abbiamo fatta una vedendo me pure già non ci regoliamo mai gli ospiti sono due ne facciamo una caramella sola adesso allora noi vogliamo subito iniziare a cucinare con voi cosa prendiamo delle verdure verdure che prendo cipolla sedano carota un bel trito insomma allora un bel trito ecco a voi ecco prendo un altro tagliere per te sì no posso usare anche questo come ce ne dividiamo queste verdure allora vanno pulite queste verdure sì ok a don domenico diamo la cipolla grazie immancabile proprio io ero in attesa di vedere la cipolla io prenderò il sedano va bene quindi dobbiamo fare un bel battuto un bel trito dico bene io metto sull'acqua l'acqua bollente l'acqua bollente la mettiamo sui fornelli perché siamo molto curiosi di conoscere questa ricetta posso dire solo una cosa che questa ricetta vi farà piangere vi farà piangere di gioia perché vi farà ricordare veramente i tempi antichi le vostre mamme le vostre nonne quando eravate piccoli sarà una ricetta veramente del cuore e non vi dico qual è quindi c'è molta molta come dire curiosità per questa ricetta anche voi la fate abitualmente una ricetta della nonna della nonna chi vi ha insegnato a cucinare la nonna mia mamma a te la nonna e la mamma quindi sono sempre loro è le artifici delle dei nostri lavori della nostra cucina della nostra creatività così come lo è questa ricetta e allora se volete scoprirla insieme a noi ci vediamo qui tra qualche minuto eccoci qui a qualche passo al convento con le nostre sorridenti ospiti di oggi roberta mirabella e nora pinto che arrivano dalla provincia di latina da l'enola e da fondi che poi sono molto vicine l'enola e fondi roberta è anche nata a fondi quindi salutiamo tutti gli abitanti della provincia di latina che sono tantissimi e che ci guardano sempre quindi continuate a guardare quel che passa il convento allora noi abbiamo fatto un trito di carote sedano e cipolla abbiamo messo l'acqua a bollire per fare quale ricetta il brodo di gallina brodo di gallina e allora sicuramente vi ricorderà come ho detto prima la vostra infanzia e prendete appunti per rifare questa ricetta insieme a noi vi dovete procurare 500 grammi di gallina ruspante due gambi di sedano due carote una cipolla acqua e sale e poi ci sarà la ricetta anche dei tagliolini che verranno messi in brodo quindi tra un po' vi do anche la ricetta dei tagliolini facciamo prima il brodo quindi questa è la gallina quindi 500 grammi di gallina con tutta la pelle vero? sì sì anche il brodo di pollo si può fare no? quello di gallina sì si può fare quello di gallina è più buono è più saporito diciamo questa è una ricetta come dicevamo prima tradizionale proprio antica antica della nonna nelle vostre famiglie quando si usava a prepararla? a natale soprattutto il 26 di dicembre sì dopo le feste dopo le grandi mangiate del 24 e del 25 il 26 si mangia brodo brodo di gallina eh sì perché si va più leggeri insomma sì diventa è vero sì nell'idea nell'idea di una volta per un modo di dire per un modo di dire poi il brodo di gallina è pesante doveva servire a depurare ma in realtà è una cosa bella sostanziosa bella sostanziosa allora andiamo ai fornelli Don Domenico a casa vostra si usava a preparare il brodo di gallina? sì sempre sì? perché a casa nostra avevamo anche un po' di galline ecco ma prima un po' tutte le famiglie cercavano di essere autosufficienti perché non è che si andava alla macelleria per comprare no? si mangiava quelle che si aveva in casa certo e la carne soprattutto si lasciava per le grandi feste una volta era così è vero e a casa vostra assaggiatori? sono impegnati con le caramelle no non ci stanno guarda guarda che belle le avete anche incartate certo confezionate ma è stupendo sono meravigliose queste caramelle bravo Don Domenico bravo bravo Don Domenico ma se ci piacciono proprio i nonni ci accontentano delle caramelle una volta li lasciavano per i bambini adesso li mangiano loro assolutamente io li studio queste io le porto via qualcuna per il nipotino sì come si chiama il nipotino? Andrea Andrea a tre anni vediamo una foto di Andrea che è bellissimo ed è il figlio? di mia figlia come si chiama tua figlia? Marta Marta ecco quindi è un bambino stupendo tante caramelle per lui le lasciamo da parte allora adesso lasciamo cuocere deve cuocere quanto tempo? minimo un'ora minimo un'ora e allora andiamo a fare i tagliolini? sì metti più piano metti il coperco andiamo si mette a temperatura bassa bene deve cuocere un po' per volta giusto? sì ecco allora i tagliolini siamo pronti anche per i tagliolini vi do gli ingredienti dei tagliolini quindi per i tagliolini dovete procurarvi quattro uova e della farina semplicemente sono ingredienti per quattro persone quanta farina su per giù Roberta? 400 grammi 400 grammi quindi 100 grammi 100 grammi 100 grammi a uovo quindi su per giù comunque tu fai molto ad occhio vero? ho visto che cucine molto così bisogna aggiungere la farina sentire la pasta se rimane molto morbida bisogna avere il coraggio di aggiungere farina la giusta consistenza quindi queste sono anche le parole della nostra professoressa amica di Roberta che è una maestra di cucina di cuore di passione quindi non lo fa proprio per professione ma lo fa a casa sua giusto? sì per tuo marito per tua mamma per i tuoi figli come si chiamano? Chiara e Francesco Chiara e Francesco che apprezzano molto le tue ricette ecco e invece Nora adesso è in pensione ma è una professoressa di italiano sì sono un'insegnante italiano però sto imparando tantissimo da Roberta sì sono prestata alla cucina ma volentieri è vero volentieri allora quindi l'impasto dei tagliolini vedete che si fa proprio semplice semplice come diciamo sempre a volte ci sembrano ricette difficilissime da realizzare preferiamo ad andarle a comprare già fatte e invece ci vuole molto poco ci vuole molto poco perché le sa fare è vero Don Domenico? sì ma soprattutto bisogna guardare alla bontà no? la pasta fresca che si compra è buonissima è vero ma quella fatta in casa è ancora più buona si sente proprio il sapore provateci vedete che noi facciamo una cucina molto casalinga molto proprio da tutti i giorni una cucina anche un po' antica e allora proviamoci tutti voi la fate la pasta fatta in casa? sempre io davvero? sì sì no io no è abitudine la fa Claudio mio marito Claudio allora la prossima volta viene a impastare tu Anna Maria va bene? ci proviamo sicuro così ti eserciti basta guardare le mani di Roberta io credo che si impara facilmente infatti allora la pasta è pronta a questo punto si deve stendere subito non deve riposare è uguale può anche riposare un po' non ci sia di niente ok allora mettiamo la nonna papera o cominciamo a stendere col mattarello no facciamo con nonna papera con nonna papera quindi eccola qui la nostra nonna papera stendiamo più facilmente e nel frattempo andiamo a vedere che cosa sta succedendo a casa di Roberta ok vediamo un po' un po' di cipolle un bucetto d'olio pomodori il parmigiano e buon appetito ma che brava la signora Anita che è tua mamma vero Roberta questi spaghetti al pomodoro devono essere fenomenali brava brava e venga a cucinarli qui con noi noi intanto la pasta vedete come prosegue bene è stupenda molto sottile brava Roberta è vero che tu la stendi anche col mattarello quindi hai proprio da piccola che fai questa pasta sì tu la usi la nonna papera Nora no io la pasta fatta in casa non ho mai avuto mai tempo di farla ti capisco però me la sono mangiata fatta da mamma eh sì queste che faccio le metto qui sopra si c'è un po' di farina mia mamma fa gli gnocchi ah sì eccezionali come si chiama tua mamma Anna la salutiamo allora la signora Anna e anche la signora Nita salutiamo le mamme che ci stanno guardando scusa Virginia ma il broto di gallina e la pasta non la papera è abbinato è una tutti i modi i tagliolini sono speciali anche particolari però fatti a mano dai è un'altra cosa ma certo ecco perché avevi detto fa buon brodo è la gallina vecchia è la gallina vecchia come diciamo noi la gallina vecchia è la gallina vecchia ecco qua i tagliolini sono pronti li andiamo a buttare nel brodo in realtà il brodo deve cuocere un bel po' no? quanto abbiamo detto che deve cuocere Roberta? più di un'ora più di un'ora sì bene e dentro il brodo si cuociono i tagliolini veramente nemmeno un minuto per cuocere quelli velocissimi tempo di cuocere l'uovo che bontà noi invece facciamo la gallina con la salsa peará la salsa peará è una salsa di pane che si fa cuocere in un tegamino di terracotta sulla stufa e deve bollire bollire tantissimo poi prendi tutto il bollito del brodo ci smetti questa salsa di pane ed è squisita veramente questo è un piatto proprio della tradizione è un piatto che ci ricorda la nostra infanzia abbiamo detto che deve cuocere pochissimo eccola qui sta bene arrivare guarda guarda in un attimo eccola qua tu Roberta sei molto brava si vede proprio a gestire la casa però non ti occupi solo della casa come Nora si è occupata della scuola dei ragazzi le sono rimasti molto affezionati perché molto è una insegnante severa ma giusta molto corretta vero quindi amata amata dai suoi studenti vero un conto è la richiesta delle cose da fare un conto è l'affetto è certo sul piano umano certo quello non deve mancare mai tu invece Roberta ti occupi di un'azienda agricola che è la tua azienda agricola quindi ti occupi dell'orto ti occupi degli animali sai gestire molto bene si e c'ho la raccolta delle olive ah le olive quindi fai anche l'olio si bene ecco il piatto pronto volete il brodino eh stanno aspettando vai prendi il brodo Carlo brodino con un po' di parmigiano ci va il parmigiano? si è proprio gusto questo è quello che ci vuole questa è l'ora del brodino il brodino ci sta benissimo vero Don Domenico? benissimo vedo che l'avete guardato proprio con un po' di nostalgia negli occhi ma noi nel frattempo iniziamo anche un'altra ricetta sempre per rimanere nella tradizione antica ditemi chi è che non fa i taragli al vino i taragli al vino ogni famiglia ha la sua ricetta e allora vediamo la ricetta di Roberta con l'aiuto di Nora 100 grammi di vino 100 grammi di olio d'oliva della farina un pizzico di sale un uovo 200 grammi di zucchero di canna e un cucchiaino di lievito per dolci e facciamo questi taragli al vino e sono una ricetta tipica di tutta Italia vero professoressa? si almeno dell'Italia meridionale sicuramente del centro Italia centro Italia sempre ognuno con le varianti chi le fa con la farina bianca chi con quella integrale adesso ci sono anche quelli che aggiungono il cacao eh si diventa beh chiaramente si aggiorna quindi abbiamo messo 100 grammi di vino 100 grammi di olio d'oliva la farina come ci regoliamo quando basta e 200 grammi di zucchero ma in realtà ne va solo una parte nell'impasto si può anche non mettere dipende dal gusto ok e poi il lievito si insieme alla farina quindi questa è una ricetta semplicissima che non bisogna dimenticare di fare noi a nord li facciamo anche voi facciamo delle si dei tarallini con l'anice però con l'anice senza vino senza vino e invece Carlo? che vengano fatti come vengano perché tanto finisce tutto a tarallice poi questi sono molto tipici della zona di Roma sono specialmente i castelli romani si fanno tanto i taralli i castelli di taralli si ma qua ci vuole tanta farina Carlo io approfitto per chiedere ma come sono i tagliolini di Roberta? i tagliolini di Roberta sono veramente squisiti si sono veramente squisiti e com'è la pasta? è morbida morbida profumata giusta giusto giusto perfetta brava brava grazie grazie incredibile io se permettete continuo va bene Don Domenico abbiamo detto che la nostra Roberta ha un'azienda agricola e adesso sta un po' tornando di moda anche tra i giovani la voglia di riprendere l'attività sulla terra di diventare dei contadini che è bellissimo mettere le mani sulla terra che ne pensate? io ne penso in modo positivo perché oggi c'è un ritorno proprio alla terra perché piacciono i prodotti genuini perché adesso succede che andiamo a comprare tutto all'ortofrutta e quindi alle volte non sappiamo nemmeno come sono coltivate infatti ma poi c'è proprio questa voglia di produrre di essere attivi e io l'ho notato anche nel mio piccolo spesso viene gente a trovarmi vede che io come faccio i prodotti mi chiede e poi ecco gli viene la voglia di farle quindi ecco io penso di aver fatto questo di buono perché ho fatto fare l'orto a tante persone che magari non avevano mai messo le mani con la terra perché c'è veramente una grande soddisfazione raccogliere un prodotto fatto con le proprie mani eh sì è un'altra soddisfazione che ne pensa la professoressa tanti dei miei alunni si sono dedicati alle attività agricole mettendo su aziende anche anche importanti di un certo prestigio veramente hanno ripreso il lavoro neanche dei padri forse che avevano abbandonato ma dei nonni riuscendo molto molto bene ed è un lavoro straordinario giusto assolutamente che fa stare molto con i piedi per terra diciamo così perché poi si dice il proverbio come dice contadino contadino scarpe grosse e cervello giusto no non è vero viva i contadini viva i contadini sono in gamba sono in gamba sono assolutamente in gamba allora guardate intanto la nostra Roberta quindi prende un pezzettino di pasta ci fa dei rotolini poi li arrotola come proprio a forma di tarallino e li intinge posso dire nello zucchero solo da un lato giusto poi si mettono su una teglia con la carta forno allora Don Domenico dove siete qui bisogna dare una mano per i taralli ho pulito la cucina sì possiamo Don Domenico diamoci da fare la pasta e pure la nostra tutti a fare tarallucci e vino come dice il nostro Carlo e allora tra poco li mangeremo tutti insieme eccoci qui siamo tornati stiamo cucinando dei piatti buonissimi dell'antica tradizione con Roberta e Nora di fondi e di lenola allora stiamo facendo i tarallini al vino abbiamo fatto tutto l'impasto con 100 grammi di vino 100 grammi di olio d'oliva la farina quanto basta un pizzico di sale un uovo 200 grammi di zucchero di canna e un cucchiaino di lievito per dolci poi si fa la forma dei tarallini come vedete fare alle nostre due ospiti e si cospargono di zucchero solo da un lato poi si mettono nella teglia e si infornano a che temperatura Roberta 180 gradi per 30 minuti 180 gradi 30 minuti e Don Domenico va a infornare ne stiamo facendo una quantità incredibile perché voi non sapete quante persone lavorano dietro la cucina di quel che passa il convento sono tantissimi sono bravissimi sono simpaticissimi e sono affamatissimi quindi mangiano tutte le ricette vero? perché ci chiedono sempre ma dove vanno a finire le ricette che preparate? tutto il dubbio Virginia il motivo c'è allora bene basta così perché vogliamo subito regalare ai nostri ospiti altre buone ricette facciamo un secondo buono? sì che facciamo? il pollo con le patate e i peperoni la cipolla allora un pollo al forno pollo al forno che fa sempre piacere e piace a tutti e questi sono gli ingredienti mezzo pollo ruspante quattro patate due peperoni una cipolla olio extravergine d'oliva mezzo bicchiere di vino bianco sale e un rametto di rosmarino allora ecco qui il nostro mezzo pollo ok si taglia a pezzi sì tanto noi tagliamo le verdure sì ci viscono le verdure sì Nora ma come vi siete conosciute? allora noi ci siamo conosciute al coro al coro? sì in realtà apparteniamo a due cori diversi ma abbiamo lo stesso maestro e il maestro spesso ci fa cantare insieme e noi ci siamo incontrate al coro poi veramente ci ha unito un'altra passione sì tutte e due siamo innamorate di Ponza ah l'isola di Ponza e chi è che non è innamorato dell'isola di Ponza e a proposito di Ponza vogliamo andare a vedere con chi e cosa sta cucinando la nostra Francesca buongiorno Virginia buongiorno Don Domenico oggi se è possibile io sono ancora più felice del solito perché? perché sono all'oresteria e accanto a me c'è lo chef Oreste Romagnolo buongiorno buongiorno a tutti ben arrivata grazie hai preso il traghetto la riscaffola sì 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 il mare c'è anche se siamo da Italy in realtà la ricetta oggi è sempre Ponzese quindi è un tonno con pomodorino capperi olive e questo magnifico origano senti che è buono Don Domenico origano origano un profumo fresco in diretta dall'isola anche se siamo qua a Roma che bello il piatto è semplicissimo come sempre l'olio senza far bruciare l'aglio pomodorini pomodorini freschi pomodorini pacchino proprio freschissimi anche loro olive i capperi un cucchiaio di capperi un po' di di sapore ovviamente sappiamo benissimo che già si sente un profumo Oreste l'aglio ah via l'aglio diventa scuro sì poi le signore incominciano a dire l'aglio l'aglio i nostri signori sono bravissime poi Oreste ci ha fatto un piatto veloce pratico ecco il nostro super tonno che viene posizionato al centro della padella in maniera da fargli prendere un po' di di colore e sapori del sapori mediterranei che ci piacciono tanto a questo punto lo allungo con un po' di vino quindi utilizziamo un pochino di vino bianco esatto fumata che nelle telecamere fa sempre bene dopodiché guarda fa bene anche a me perché io respiro questo profumo pazzesco dopodiché si schiacciano i pomodorini per far uscire la loro acqua si io guardo guardo e imparo come vedete è semplicissima ed è velocissima un po' fai la prerogativa del tonno e che venga cotto poco e adesso noi dobbiamo fare la nostra magia è già pronto caro Oreste la magia per le nostre signore guardate un po' ta ta eccolo qui fatto fatto sembra quasi che l'abbia fatto io così tu l'hai fatto tu l'hai fatto eccolo qua tonno il suo sughetto l'origano e poi l'olive i capperi e il tocco finale lo fa lo mette Francesca via posso? posso chef? voilà ma senti che profumo un profumo incredibile Don Domenico ce l'hai insegnato tu è importante condividere ve lo porto in studio ciao a tutti e lo chef Oreste è di Ponza grazie Francesca per voler condividere con noi questo piatto buonissimo se ce lo vuoi portare in studio noi ti aspettiamo vero Don Domenico vero assaggiatori assolutamente quelli sono capaci di assaggiare pure i piatti di Francesca guarda ci manca solo quello adesso è vero hai sentito Francesca e allora noi continuiamo con il pollo al forno con i peperoni e le patate quindi che cosa hai fatto ho tagliato il pollo il pollo a pezzi si lascia tutta anche la pelle poi il peperone a strisce e le patate a pezzi a pezzi e una rondella bianca e come si fa? a piacere dei gusti ecco tanto è uguale si mette un filo d'olio nella teglia allora un filo d'olio e la cipolla già fatta Don Domenico appena vede una cipolla ormai la prende a volo per evitare che qualcuno glielo dica non me lo so fatta dire non me lo so fatta dire un po' di sale ecco un po' di sale ecco qua quindi siete innamorate dell'isola di Ponza perché? perché tu ci vai spesso vero Roberta? ci vado d'estate e invece Nora? io invece ho insegnato tre anni sull'isola di Ponza e ho messo le radici come se fosse a casa mia eh sì eh ho ancora rapporti relazioni affettuose con i miei ex alunni che adesso sono delle persone adulte che bello però è bellissimo siamo rimasti nonostante siano passati 30 anni no forse anche di più 35 però è rimasto un legame grandissimo è vero che invitano pure i loro matrimoni sì sì è successo è successo e quest'estate ci siamo rivisti dopo tantissimi anni sei andata a Ponza sì 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 allora guardate che bel piatto colorato mediterraneo quindi hai messo tutto insieme sì pollo peperoni patate un po' di cipolla sopra tritata vabbè si mischia il tutto il rosmarino e poi hai aggiunto un filo d'olio e il bicchiere di vino mezzo bicchiere di vino bianco va bene sì un po' di sale e inforniamo sì che temperature per quanto tempo 250 gradi per un'ora 250 gradi per un'ora e allora Don Domenico vogliamo andare a infornare? subito andiamo e adesso finito il pollo infornato il pollo non ci facciamo mancare anche il suggerimento per un altro secondo vero? il guanciale di vitella guanciale di vitella allora un'altra ricetta rustica che vi farà comodo per preparare una cena per preparare un pranzo con gli amici con i parenti e quindi di carta e penna questi sono gli ingredienti 400 grammi di guanciale di vitella 500 grammi di vino rosso una cipolla due gambi di sedano una carota olio extravergine d'oliva e sale allora allora si prende dell'olio si si mette l'olio in una casseruola si poi si mette un po' di cipolla la cipolla che mi prepara Don Domenico Don Domenico dobbiamo preparare la cipolla subito quante volte l'avete tagliata oggi ci siete? un coltello soltanto ecco poi si prende la carne che può essere anche un altro tipo di carne si se non si ha la la vitella le guanciale di vitella si quindi che tipi di carne si possono utilizzare per questo piatto? questa è una pancetta oppure si può usare anche uno stinco si ecco tu lo prepari per quale occasione? ce ne co amici perché è un piatto che puoi preparare prima prima quindi che va fatto cucinare lentamente ah lento 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 si fa rosolare ecco quindi la andiamo a far rosolare subito? si andiamo allora intanto stavamo parlando del fatto che vi siete conosciute oltre che a Ponza anche nella corale polifonica di Lenola di Lenola di Lenola e di Fondi sono due e di Fondi e quante persone siete a cantare? eh quando siamo tutti arriviamo anche a 45 persone davvero? il maestro come si chiama? Gianni Gianni Mastromanno eh lo salutiamo quindi il maestro del vostro coro maestro Gianni e la maestra Maria Civita Marrocco ah benissimo maestra e che tipi di canti realizzate? canti religiosi canti classici e canti anche opera anche opera molto Mozart molto verdi sicuramente quindi fate dei concerti andate a cantare anche per matrimoni queste celebrazioni sì facciamo concerti siamo stati a cantare eh anche diverse volte a Dachau perché Fondi è gemellata con Dachau ehm e sì cantiamo un po' in tutte le occasioni che ce le chiedono siamo disponibili Don Domenico come diceva Sant'Agostino quando si canta si prega due volte ecco allora a proposito del canto io ho preparato un piccolo pensierino che dice il canto il canto è uno dei mezzi che lo spirito di rito santo usa per muovere alla lode i cuori e la comunità esso rende il suo servizio per lodare Dio in una lode armoniosa come egli solo merita un linguaggio che Dio ha scelto ed incoraggia per comunicare con il cuore dell'uomo e uno possiamo dire dei linguaggi di Dio no? e Dio ama molto no? quando noi ecco cantiamo e poi una messa animata dal canto è tutta un'altra cosa no? la gente certamente segue ecco con un piullone al Signore no? già gli angeli cantavano no? quindi è un esempio che anche noi quando dobbiamo pregare dobbiamo cantare allora intanto proseguiamo con la ricetta perché hai messo a rosolare il guanciale di vitella e poi hai aggiunto la cipolla carote sedano e un po' di sale e poi hai coperto con il vino rosso quindi deve essere proprio coperta la carne si lascia cuocere si deve proprio assorbire come se fosse uno stracotto insomma quasi deve diventare una crema una crema benissimo allora lasciamolo assorbire assorbire e noi che facciamo ripassiamo le ricette ripassiamo tutte le ricette che abbiamo fatto finora per il brodo di gallina preparate un trito con sedano carote e cipolla mettete in una pentola e fate cuocere la gallina insieme ad abbondante brodo nel frattempo preparate i tagliolini sbattete le uova unite la farina e impastate a mano sendete la pasta con la nonna papera tagliate i tagliolini togliete la verdura e la carne dal brodo e cuocete i tagliolini per 5 minuti per i taralli al vino lavorate in una ciotola l'uovo il vino l'olio e mescolate tutto unite la farina e il lievito lavorate fino ad ottenere un impasto omogeneo fate dei rotolini passateli nello zucchero solo da una parte e adagiateli in una teglia rivestita di carta forno infornate a 180 gradi per 30 minuti fate il pollo delle patate tagliando a pezzi il pollo tagliate le verdure mettete pollo e verdure in una teglia antiaderente e completate con il vino bianco sale e rosmarino infornate a 250 gradi per 40 minuti per il guanciale di vitella fate rosolare la carne in una pentola con un bel fondo d'olio cipolla sedano carota e sale aggiungete vino rosso cuocete a fuoco lento fino a cottura della carne e poi una volta cotta la carne si toglie e si mette da parte e si lasciano le verdure nel vino nella riduzione che si è formata la ricetta non è finita ma aspettiamo prima il pensiero del nostro Don Domenico Sant'Antonio di Padova siamo giardini fioriti la nostra anima è come un giardino nel quale Gesù come un contadino mette a dimore i misteri della fede e poi la irriga quando le infonde la grazia della serenità è una bellissima similitudine che Sant'Antonio fa per la nostra vita dice la nostra anima è come un giardino che l'agricoltore o il contadino cura e noi sappiamo che per curare delle piante ecco c'è bisogno c'è bisogno del lavoro dell'attenzione di innaffiare concimarla affinché cresca bene regogliosa e porti i suoi frutti l'anima dice Sant'Antonio è proprio come un giardino il Signore ci dà tante grazie ci dà tanti benefici e noi però dobbiamo curarle dobbiamo starci attenti altrimenti rischiamo di non portare frutto quindi ecco noi dobbiamo comportarci come l'agricoltore che cura e noi soltanto curiamo la nostra anima quindi come dicevo prima ecco avendo lo sguardo sempre verso l'alto verso Dio noi raggiungeremo la meta bene grazie Don Domenico sempre della vostra profondità dei vostri profondi pensieri allora quindi adesso abbiamo qui la riduzione con le verdure ben cotte e che facciamo? le frulliamo le frulliamo quindi con un mini peamer a immersione prendete un piattino Don Domenico si frulla per ottenere una bella salsetta ecco qui abbiamo ottenuto una bella salsetta che si metterà sul fondo di un piatto vero Nora? sì ecco allora lo mettiamo sul fondo e poi sopra la carne cotta quindi un bellissimo piatto da regalare ai vostri ospiti e come diceva prima Roberta da poter preparare in anticipo io Don Domenico voglio far vedere una cosa ai nostri assaggiatori ah ah noi abbiamo i tarallini ce l'abbiamo anche noi come hanno fatto Don Domenico pensavo che questa volta le avevamo colti sul fatto no sempre la talpa bisogna ricordare sempre la talpa vedo che avete anche il pollo anche il pollo peperoni cipolle e patate c'è un profumino e allora grazie signori assaggiatori grazie ospiti simpaticissime e quindi Roberta Mirabella e Nora Pinto salutiamo tutti gli abitanti di Nello Lenola grazie a tutti i nostri